Presentato a Porto Torres è il calendario delle celebrazioni autunnali dei martiri turritani, un ricco cartellone che prevede appuntamenti dal 23 ottobre al 5 novembre nella Basilica di San Gavino. Si inizierà con un concerto del coro polifonico turritano dedicato ai martiri. Lunedì 25 ottobre è il giorno dedicato al Martirio dei Santi, avrà il suo culmine con la celebrazione in Basilica alle 18 del pontificale presieduto dall'Arcivescovo Gianfranco Saba. La giornata prenderà il via alle 9 con la messa della chiesa di Balai lontana. Al termine l'associazione Etnos Libenzini curerà un corteo di figuranti in costume tradizionale a piedi e a cavallo fino alla spiaggia di Balai, dove l'associazione Assovela, in collaborazione con l'associazione La Prana, guiderà le proprie imbarcazioni. Barche, cavalli e figuranti in abito riceveranno in spiaggia la benedizione del parroco dello Spirito Santo Don Boniface. Qui dalle 9.30 fino alle 18 si svolgerà un concorso di pittura estemporanea a cura dell'associazione TNT Global Art, che avrà come tema ispiratore il martirio dei patroni Gavino, Proto e Giannuario e l'abbigliamento tradizionale turritano. Le opere prodotte nel corso dell'estemporanea intitolata 25 ottobre a Balai, porto, torre, strarte, devozione e tradizione, saranno esposte dal 26 ottobre al 5 novembre nella sala superiore dell'antiquarium turritano. Grazie.